Un'aggressione dentro l'ospedale San Donato di Arezzo è successa. Intorno alle 11.30 riferiscono fonti sanitarie presso lo sportello di accettazione della radiologia dell'ospedale Aretino. Un uomo ha aggredito il personale amministrativo che era impegnato nella consegna dei referti. Sul posto è intervenuta la vigilanza e altri operatori che sono intervenuti per fermare l'uomo. Quest'ultimo avrebbe prima inveito contro l'operatore che lo aveva invitato ad attendere e poi lo avrebbe aggredito fisicamente. Sul posto anche gli agenti della polizia del presidio ospedaliero che hanno preso le generalità dell'uomo. L'operatore è aggredito e è stato trasportato in pronto soccorso. L'azienda ASL Toscana Sud-Est si legge in un comunicato ufficiale nel ringraziare il personale sanitario di vigilanza e la polizia per il pronto intervento si riserva la possibilità di presentare formale denuncia.